Presidiare dall'interno l'azienda per continuità con le manifestazioni degli ultimi mesi è la scelta messa in campo nelle scorse ore da FIOM e Wilm per non abbassare la guardia su quella che è stata ormai definita l'avvertenza Leonardo Grottaglie. Leonardo è un'unica società giuridica del 2016 in crescita in tutte le linee di business dall'elicotteristica, dalla cyber, dai mercati dei tech, fino anche all'aeronautica militare che è un'altra resilienza sul mercato, quindi ci sono stabilimenti al nord che sono in espansione occupazionale e sta isolando sempre di più Grottaglie rispetto alla crisi più grande della storia dell'aviazione civile. Perciò i lavoratori ieri hanno continuato in un percorso democratico già avviato in passato dove noi chiediamo certezze lavorativi che ad oggi non ci sono perché ci sono solo annunci che guardano oltre il 2026 e soprattutto l'unica cosa certa che Leonardo è in grado di mettere sul tavolo ad oggi è lo spettro dell'ammortizzazione sociale dall'anno prossimo senza avere una certezza sulla congiuntura. Le RSU non unite in questa occasione, per la CISL bisogna trattare l'argomento nelle sedi opportune perché l'avvertenza Leonardo aereo strutture non è una discussione periferica che può essere risolta con uno sciopero di sito. Il management Leonardo per i vertici FIM-CISL ad oggi non si è mai sottratto al dialogo. Noi avremo un incontro nel mese di novembre presumibilmente attorno al 12 attendiamo una convocazione ufficiale, abbiamo fatto un coordinamento come Wilma nazionale come già ci siamo detti che se non cambia l'impostazione aziendale durante quella sede dell'incontro quindi certezze lavorative, prospettive solide per lo stabilimento e anche una tavola di confronto che permettano di avere soluzioni alternative all'isolamento dello stabilimento noi faremo mobilitazioni anche nazionali e proverremo alla FIOM e alla FIM-CISL.